Non ci sono più posti letto disponibili al polo covid di Scafati. Da ieri sera sono stati sospesi i trasferimenti dagli altri presidi, essendo stati occupati sia i posti letto di degenza attivati nel reparto di pneumologia, sia gli ulteriori 5 posti letto in terapia intensiva respiratoria. Per il momento quindi non potranno essere accolte altre richieste di trasferimenti che continuano ad arrivare non solo dalla provincia di Salerno, ma anche dall'area vesuviana. Ieri sera sono stati ricoverati in ordine di tempo gli ultimi due pazienti, entrambi bisognosi di terapia intensiva. C'è ora la necessità di attivare gli altri 10 posti letto che sono stati già predisposti sempre al terzo piano del presidio. Si tratta del braccio B del reparto di pneumologia. Per attivare queste ulteriori postazioni c'è bisogno di reclutare personale, che garantirebbe tra l'altro anche un ricambio agli operatori sanitari che da giovedì sera stanno dando assistenza ai pazienti, alternandosi ma in condizioni di grandi difficoltà. C'è necessità soprattutto di medici che la direzione generale dell'Asla avrebbe difficoltà a reperire. C'è poi un altro problema, mancano i dispositivi di protezione individuale che risultano necessari per consentire a chi opera a diversi livelli all'interno della struttura di poter lavorare nelle condizioni di massima sicurezza, evitando quindi rischi di contagio. Dal polo covid di Scafati giunge intanto la conferma che un altro infermiere risultato positivo al virus era già in isolamento domiciliare fiduciario da qualche giorno insieme ai familiari, avendo manifestato febbre e tosse. Anche lui è assegnato all'unità di terapia intensiva respiratoria ed è collega del primo infermiere risultato positivo in seguito agli esiti dei tamponi a cui era stato sottoposto all'avvio delle attività tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario assegnato al polo covid di Scafati. Intanto in città si registrano due nuovi casi di positività che portano a quota 18 il bilancio dei contagiati. Ehm, Marco.